ben ritrovati a questo nuovo video della serie pillole di ubuntu e siamo arrivati alla numero 6 chi ha già seguito le puntate precedenti saprà che questi sono dei video che raccolgono degli appunti che io tengo da parte durante l'uso di ubuntu del sistema operativo man mano che trovo qualcosa che giudico interessante mi tengo lì una nota da parte quando ne ho accumulato un certo numero mi decido fare uno di questi video e appunto siamo arrivati al numero 6 in questo caso partiamo quindi con la prima pillola che ci spiega come eseguire un programma con l'interfaccia temporaneamente in lingua inglese oppure anche in un'altra lingua la cosa può servire questa cosa può servire per esempio quando dobbiamo aprire una segnalazione di un problema penso che ormai sappiate che la lingua franca la lingua della tecnologia in rete e dappertutto così anche e vale anche per ubuntu e i vari siti di supporto è l'inglese quindi per rendere più efficace la nostra segnalazione oltre a descrivere il problema in inglese farebbe anche comodo poter per esempio accompagnare la nostra segnalazione di problema con degli screenshot in lingua inglese perché no è vero che di solito i menu ovviamente sono posizionali ovvero anche se noi inoltriamo uno screenshot in italiano lo sviluppatore riesce contando che ne so le posizioni delle voci del menu a dire a ecco questo in porta pagina nella mia lingua è o nella lingua inglese è quella tal voce perché sono posizionali però diciamo che per semplificare anche la vita lo sviluppatore che deve analizzare il problema è sicuramente più efficace intuitivo e veloce fornire direttamente lo screenshot nella lingua di riferimento ripeto appunto l'inglese come si può fare bene si può fare basta avere ovviamente la lingua installata sul proprio sistema nel mio caso per esempio non mi serve nessun'altra lingua che non l'italiano con la quale lavoro correntemente perché è la mia lingua principale e l'inglese tutte le altre lingue non mi servono installate sul mio sistema ciò non toglie che voi possiate avere più lingue sul vostro sistema installato il francese tedesco russo il cinese che ne so qualsiasi lingua e questi comandi che vi presento valgono per qualsiasi lingua o meglio il secondo la seconda opzione che vi presento fra un attimo vale per qualsiasi lingua basta che indichiate il codice della lingua che desiderate il primo comando invece specificatamente per l'inglese quindi come posso avviare un programma in lingua inglese posso usare questo comando oppure questo il secondo comando come vedete implica comporta l'indicazione del codice iso internazionale insomma questi codici qui riconosciuti internazionalmente per le lingue quindi volessi far partire il mio il mio programma di turno che ne so in francese potrei mettere fr fr per dire ecco avessi naturalmente la premessa ripeto è che io abbia installato le librerie di quella lingua se no ovviamente non funziona ma andiamo con ordine allora dico prendo come esempio il programma gedit che è il noto editor di testo vedete qui tutto in italiano ovviamente essendo attivo il mio sistema con la lingua installato è attivo la lingua italiana sul mio sistema tutto i pulsanti la barra di stato vedete tutto in italiano ovviamente questo è gedit allora poniamo il caso che trovo un problema che i gedit mi va in errore o qualsiasi cosa io voglio segnalare questo problema dico che voglio semplificare la vita chi dovrà analizzare questo problema e spedisco assieme alla segnazione del problema anche degli screenshot di ciò che succede o magari anche un video perché no mostrando quando succede il problema ma con gedit in inglese allora prima opzione è questo comando quindi lang uguale a c spazio gedit perché l'esempio può essere qualsiasi altro programma ma prendiamo gedit allora lang rispettando appunto i caratteri maiuscoli ovviamente spazio il programma che voglio gedit e faccio enter a questo punto vedete che magicamente rispetto a prima gedit mi si è aperto in inglese vedete tutti i menu sono in inglese tutti barra di stato vedete plain text tab width tutto in inglese i pulsanti hanno le icone col testo in inglese e il documento senza nome untitled document e voilà vedete è in inglese questa il primo comando è specificatamente per l'inglese cioè senza specificare un codice lingua particolare con uguale a c indichi si indica al sistema fammi uscire l'interfaccia applicando la lingua inglese la seconda possibilità appunto invece più come dire più dinamica più ampia perché implica di segnalare quale lingua specificatamente voglio e poi il funzionamento è identico ovvero ottengo lo stesso risultato quindi proviamo language uguale in questo caso appunto restiamo sull'inglese sempre il nostro gedit faccio enter e vedete che ottengo lo stesso risultato tutto in inglese qui è come se avessi il sistema in inglese ma uno non ho dovuto riavviare il pc attivando la lingua inglese nelle impostazioni e non ho dovuto far niente il mio pc tranquillo in italiano solo questa finestra esclusivamente questa che sta lavorando in inglese e questo può essere molto utile ma anche per nostra documentazione quando magari colloquiamo con un tecnico con un collega su un forum che non è di lingua italiana magari lui ci dice guarda devi prendere quell'opzione che si chiama così così lui ce lo dice in inglese ormai in rete si parla con tutto il mondo in genere l'inglese la lingua appunto franca della rete e magari noi non riusciamo capire bene qual è quell'opzione perché tra l'italiano e l'inglese non magari non riusciamo a catturare la traduzione capire intuire qual è ecco che noi possiamo aprire lo stesso programma in inglese cercare esattamente quell'opzione che il nostro amico nel forum ci ha indicato ecco non può essere sempre utile ecco come dicevo prima il secondo comando vale per qualsiasi lingua sempre ammesso che io l'ho installata io posso indicare un'altra lingua adesso io ho installato solo l'italiano quindi farò scioccamente l'esercizio con italiano svizzera che è lo stesso del mio sistema attuale nel quale sta lavorando in italiano quindi faccio enter e esce né più né meno lo stesso g edit come se non indicasse nessuna lingua perché è quella di sistema attuale per il mio sistema ecco che questo può essere molto molto utile questa prima pillola di ubuntu seconda pillola andiamo torniamo magari più nel come dire nelle abitudini di questi video di pillole di ubuntu e andiamo sempre nel terminale a vedere qualche comando interessante utile che può sempre punto ripeto venire utile nelle nostre pratiche quotidiane allora in questo caso stiamo parlando di confrontare due file di testo preventivamente ordinati cosa vuol dire che prima dobbiamo usare il comando sort per ordinare alfabeticamente i nostri due file di testo ecco che qui ho i due comandi quindi sort file uno che io li ho già messi qui e li possiamo anche vedere quindi per l'esercizio didattico ho un file uno lo vedete qua questo file uno e questo con delle righe di testo non ordinate in questo momento riga 1 riga 3 5 10 8 20 eccetera eccetera poi poi ho un file 2 che anche lui vedete riga 34 riga 0 11 2 3 4 non sono ordinate in ordine sparso quindi la prima cosa da fare è ordinare quindi prendiamo questo comando lo mettiamo nel terminale e diciamo ordiniamo file sort ho sbagliato qualcosa scusate cosa mi dice che non riesce a leggere a non è appunto txt ma è senza punto txt scusate ora qui nella scaletta per abitudine dei file di testo ho messo l'estensione txt ma in realtà non ce l'hanno i file che ho preparato qui vedete sulla scrivania non hanno l'estensione punto txt per quello che mi dice che non li trovo quindi correggo anche la scaletta scusate allora correggiamo il comando togliamo l'estensione ok sorteggiato file 1 sorteggiato e vedete che c'era una riga vuota la p viene prima della r poi riga 0 1 10 20 3 5 8 adesso sì che è ordinato stessa cosa con il file 2 file 2 2 ordinato e il file 2 sort quindi ordinato pr 1 2 3 eccetera eccetera ecco adesso abbiamo file 1 sort e file 2 sort che sono ordinati e pronti per essere confrontati ecco che qui purtroppo scusate di solito controllo le cose ma vedo che la scaletta mi è sfuggito poi risultato possiamo anche lasciare punto txt però qua ok ok vedete forza dell'abitudine ok allora prima forma del comando che il quale comando è com c o m m questo che ci permette di confrontare il file quindi primo forma del comando senza nessuna opzione particolare quindi confronta il file 1 col file 2 e scrivi il risultato di questo confronto in un file chiamato punto risultato punto txt facciamolo così e vediamo che il risultato punto txt dove me l'ha messo eccolo qua va lo portiamo qui per praticità massiva mettiamolo lì allora risultato punto txt vediamo che sembra pasticciato ma in realtà è su tre colonne bisogna leggere questo questo risultato vediamo un po cosa dice qui la scaletta quindi il risultato è formato da tre colonne le righe che sono presenti solo nel file 1 quindi il primo file quello indicato subito dopo il comando quindi la prima colonna questa qua contiene contiene le righe che sono contenute solo in quel file lì e non nel secondo la seconda colonna contiene solo le righe che sono contenute nel secondo file non nel primo quindi il viceversa quindi la riga prova c'è solo scritta nel file 2 non nel file 1 rispettivamente alla riga 10 sono nel file 1 non nel file 2 ok la terza colonna invece indica ciò che c'è in comune nei due file quindi prova di riga riga 0 riga 1 riga 3 sono in entrambi i file vediamo se è vero file sort 1 vedete prova di riga riga 0 riga 1 riga 3 ci sono ecco vedete quindi senza mettere nessuna opzione particolare il comando com dandogli in pasto due file ci ritorna un risultato su tre colonne da sinistra verso destra ciò che c'è in uno ciò che c'è nell'altro e ciò che c'è in entrambi può essere come adesso qui sono diciamo proprio 4 o 5 righe di testo miseri file ma fossero file molto molto più lunghi e avessimo bisogno di avere una visione di ciò che due file hanno in comune rispettivamente non in comune è subito fatto con questo comando in questa forma vedete molto pratico questo comando ha la possibilità di non visualizzare una o l'altra o più di queste tre colonne praticamente gli si indica ecco come in questa prima forma gli si indica con un numero l'opzione meno 1 gli si dice non mostrarmi le righe che ci sono solo nel primo file quindi 1 è la prima colonna quindi delle tre colonne di cui abbiamo parlato prima diciamo che le colonne sono indicate nelle opzioni con il numero di colonna quindi colonna 1, colonna 2, colonna 3 se diciamo l'opzione meno 1 la colonna 1 non viene creata quindi se faccio andare il comando così ecco che nel risultato le colonne ora sono solo due quindi ciò che c'è solo nel secondo file è ciò che c'è in comune ma non c'è più la colonna di ciò che c'è solo nel primo file poi si può giocare con queste opzioni come descrivo qua si può giocare nel senso che gli dico ok la colonna 1 mi interessa ma non mi interessa la 2 allora rifaccio e il risultato mi dice ciò che c'è nel file 1 e solo ciò che c'è in comune ma non c'è più la colonna 2 si possono anche combinare si possono anche combinare dire a me non interessa cosa c'è solo in un file o nell'altro ma solo quello che c'è in comune quindi solo la terza colonna quindi le righe in entrambi i file quindi gli dico non mettere nel risultato né la 1 né la 2 ma lascio solo la 3 quindi ecco che qui prova di riga riga 0, riga 1, riga 3 c'è solo la colonna con il testo in comune fra i due file ecco quindi ci si può giocare si può giocare con queste opzioni e si ottiene il risultato più utile a noi scusate poi terza pillola o terza pillola di questo video è far apparire gli asterischi nel terminale quando digitiamo la password ok vediamo un po' quando eseguiamo nel terminale un comando che richiede la password noi dobbiamo digitare la password e avrete già notato in video precedenti o voi stessi che il cursore resta fermo mentre voi digitate la password questo è un ulteriore strumento di sicurezza nel senso che chi guarda il video mentre digitate la password non ha nemmeno la sensazione della lunghezza della password più o meno lunga perché perché il cursore resta fermo e non si possono contare né asterischi né niente ecco diciamo così non c'è nessuna sensazione questo è utile per la sicurezza ma a volte ci fa perdere magari il filo della password quando non abbiamo neanche noi idea di dove siamo arrivati a digitarla ecco che è possibile cambiare un'opzione per far apparire i classici asterischi mentre si digita la password ecco per cambiare questa opzione bisogna entrare in questo file di sistema e quindi bisogna proprio usare il comando sudo che poi è quello che ci richiederà la password quindi se noi usiamo questo comando per richiamare in modalità amministratore l'editor di testo nano per poter cambiare questo file faccio enter ecco che ci chiede la password a questo punto io digito la password e la sto digitando ma come di consueto e come per difetto vedete che non appare nulla il cursore rimane lì e io però l'ho digitata la password ok quindi entro ecco che sono entrato in questo file e devo andare a cercare questa opzione defaults ecco che devo andare a cercare questa opzione defaults env reset eccola qua vedete defaults env reset io l'ho trovata qui nel mio file eccola qua questa opzione io la disabilito mettendoci un cancelletto davanti diventata commento quindi non è più attiva però ne creo subito sotto la riga nuova con la nuova opzione che è password feedback ecco ovvero dammi il riscontro quando digito la password allora creiamo questa nuova riga ho messo l'area maiuscola defaults ecco un bel tabulatore poi pv feedback back e poi salvo eh faccio un bel controllo gli dico sì voglio salvare quello ed esco a questo punto si è attivata quest'opzione che mi permette di avere il riscontro quando digito la password come faccio a vedere adesso ho appena digitato la password quindi sarà ancora valida qui però aprirò un altro terminale e fare lo stesso comando a questo punto eh sudo nano etc sudo ers ok mi chiede la password perché è un terminale diverso dal primo eh solo per far più velocemente per il video ehm ok adesso metto la mia password e vedete che mentre digito magicamente appaiono gli asterischi e prima invece no ripeto il comportamento per difetto e più sicuro è quello di non far apparire gli asterischi però se vi da proprio fastidio questa cosa ecco che vi indico l'opzione da usare per ripristinare la situazione come prima basta togliere l'opzione e riattivare quindi riattivo quella di prima ed elimino quella che ho appena messo così ho riportato le cose come prima eh salvo chiudo e riaprendo un nuovo terminale per fare lo stesso trucco per farmi richiedere subito la password facciamo lo stesso comando che almeno ok e adesso vedete che sono tornato a digitare la mia password ma non vedo più gli asterischi adesso smetto perché non mi serve più entrare quindi trucco velocissimo cioè trucco impostazione velocissima e utile per chi proprio trova fastidioso non avere il feedback non avere il riscontro della digitazione della password poi ulteriore pillola che è la penultima questa è diciamo che più comune forse delle altre qui chi usa il terminale conosce questo comando che poi intuitive find vuol dire trova per cercare velocemente dei file nella cartella corrente in tutte le sue sottocartelle quindi senza magari aprire programmi particolari per ricerca di file per il nome di file basta usare il comando find che oltre a quella che mostro qui ha parecchie più opzioni però questa è quella diciamo rapida per cercare nella cartella corrente in tutte le sottocartelle che ci sono in quella cartella quindi per esempio voglio cercare tutti i file che finiscono con txt uso questa forma find ops che avevo già scritto find punto vuol dire parti dalla cartella dove sei quindi cartella corrente e poi lui automaticamente andrà a cercare anche nelle eventuali sottocartelle dico cerca per cosa per nome l'opzione ecco qua name per nome asterisco punto txt faccio enter e vedete che mi da un un errore di di forma perché l'asterisco deve essere preceduto da una barra per essere interpretato come tale come asterisco quindi vedete che poi funziona e questa nota qui non l'ho messo perché a dipendenza di dove mettete gli asterischi quanti e come può funzionare o no dovesse dare problemi e l'ho messo qua l'ho comunque messo qui nella scaletta dovesse dare un problema come quello che avete appena visto qua che da un problema di sintassi del comando basta che ci mettete una barra rovesciata davanti a un asterisco e poi la cosa funziona avete visto che mi ha ritornato il risultato ma mi ha detto che file che finiscono per txt ci sono questi nella mia cartella scrivania e nella sottocartella shotcut vedete è andato a cercare in tutte le sottocartelle qui sono parecchie sottocartelle è proprio andato a cercare dappertutto nell'albero delle cartelle partendo dalla cartella scrivania dove sono adesso in giù poi ci sono c'è l'opzione e name che permette di ignorare se le lettere che io do come nome di ricerca sono maiuscole o minuscole nei file ecco l'esempio che faccio qua ecco questo è la segnalazione dell'eventuale errore anzi giù così per no lo lascio così perché mi sta bene così la scaletta questo dà l'errore e poi spiego perché dà errore il comando va benissimo ecco dicevo l'opzione e name è quella che permette di ignorare se un carattere maiuscolo o minuscolo quindi posso dirgli cercami questo cercami tutti i file che iniziano con s e che hanno l'estensione che inizia con od e qualcosa ecco che lui nella mia scrivania mi trova questo per esempio senza nome 1 od t vedete senza nome 1 di t però la s vedete che è maiuscola quindi i la i davanti all'opzione name permette di ignorare che io gli ho indicato la s minuscola se non uso la i come opzione non me ne trova dovrei proprio dargli rispettare il maiuscolo minuscolo ecco che ci risiamo con l'asterisco vedete che se non uso l'iname devo proprio mettere la s maiuscola per farli trovare insomma quella è la differenza fra le due opzioni ecco poi qui mai l'avete visto un paio di volte dovesse dare errore la ricerca con gli asterischi sappiate di mettere una barra rovesciata davanti e poi funziona avete visto qui ancora una volta l'errore e poi il comando che funziona ultima pillola riguarda il il programma il comando past paste o paste ecco non so in italiano paste vabbè paste in inglese quindi cosa permette di fare questo comando permette di riordinare un file oppure unire più file unirli assieme in un certo modo quindi vediamo la prima la prima forma riordinare in che senso cosa intendo ecco io ho preparato questi file per dimostrare come funziona il comando quindi file 1 past che è questo vedete che come quelli dei comandi di prima contiene delle righe riga 1 3 5 8 eccetera eccetera se uso questa prima forma allinea orizzontalmente le righe di un file quindi ho quel file lì con una sequenza di righe in verticale uso questo comando e cosa succede lui mi mi mette in output quindi mi dà come risultato lo stesso file che abbiamo visto prima ma in orizzontale spaziati da un tabulatore forse ecco riga 1 riga 3 5 ecco questo può essere utile un po' come riportare orizzontalmente qualcosa che è verticale può sempre essere utile poi se iniziamo a usare delle opzioni vediamo che allinea orizzontalmente le righe di un file separandole con una virgola per esempio quindi questo lo stesso comando di prima praticamente però con in aggiunta quale separature voglio laddove sopra era un tabulatore per difetto qui gli dico separa con una virgola ecco la qua la virgola se faccio così vedete che mi riorganizza orizzontalmente il contenuto del file però ci mette una virgola fra una riga e l'altra una virgola così come posso farlo col punto e virgola come se fosse un classico file csv separato da punto e virgola il punto e virgola è un carattere particolare per l'opzione dei comandi quindi un po' come prima col comando find dove dovevo mettere la barra rovesciata per fargli interpretare correttamente l'asterisco come carattere anche qui devo mettere la barra rovesciata per fargli interpretare correttamente il punto e virgola quindi dico voglio separare le mie righe di testo in orizzontale da un punto e virgola ma devo farlo precedere da una barra rovesciata al contrario della virgola che non ne ha bisogno quindi vedete che ottengo lo stesso risultato ma con il punto e virgola e così con altri separatori posso mettere la chiocciolina il dollaro quello che voglio quello che ho bisogno basta metterlo specificarlo qui dopo l'opzione di bene andiamo avanti con qualche altra forma di questo piuttosto potente e dinamico comando che ha diverse opzioni per ottenere risultati diversi a seconda di ciò che abbiamo bisogno e vediamo che con questa forma possiamo organizzare il contenuto di un file le righe di questo file in due tre colonne eccetera ecco il primo comando qui organizza su due colonne vedete questi due trattini significa organizza il contenuto di questo file su due colonne quindi facciamo così vedete che mi ha riportato riga 1 riga 3 5 10 8 20 riga 10 su due colonne il secondo comando non è diverso ma l'ho solo messo per far capire il concetto delle colonne ho messo tre trattini vuol dire su tre colonne quindi faccio entra vedete che una due tre le colonne le riconoscete quindi a dipendenza di quanti trattini date il comando paste come si dice riorganizza e raggruppa per numero di colonne a seconda del numero di trattini per fare un passo in più utenti si possono combinare queste opzioni e tornando ad utilizzare un separatore specifico io posso dire organizzami su tre colonne il mio file però con il separatore punto e virgola che può essere utile appunto nella forma classica del file csv vedete che è lo stesso risultato di qua sopra ma separato per punto e virgola non male se si pensa ad avere un file anche più voluminoso qui ripeto sono poche righe giusto per esemplificare ma fate sempre conto di una situazione più reale magari con un file più voluminoso può essere comodo sapere che c'è questo comando che fa questi lavori questi tipi di lavori ancora un paio di forme ecco qui entrano in gioco due file quindi per adesso abbiamo lavorato con un file solo adesso cominciamo a lavorare con due file per affiancarli uno di fianco all'altro quindi i due file paste1 e paste2 gli diamo in pasto al comando e vedete che lui gli affianca quindi c'era il secondo file che forse non l'abbiamo visto riga 34 0 11 vedete 34 0 11 2 quindi su due colonne affiancato pari pari i due file quindi se il primo è più corto finisce a riga 0 il secondo c'è ancora una prova di riga andrà avanti però gli affianca pari pari riga 1 di un file riga 1 dell'altro riga 2 riga 2 eccetera eccetera proprio li mette pari pari anche questo può essere molto utile per file due elenchi due classifiche di una gara metterli a fianco ecco può essere molto pratico questo comando naturalmente ancora una volta possiamo usare un separatore in questo caso la virgola vedete che i due file sono affiancati con la virgola mettessi punto e virgola e salvassi questo risultato potrei aprirlo in calc per esempio appunto perché è un separato un file separato tipo csv e l'ultima forma è anche questa interessante da sapere è un modo per alternare le righe ovvero accumula i due file ma alterna le righe una riga di uno poi la riga dell'altro poi la riga di uno poi la riga dell'altro ecco se faccio enter vedete che c'è la prima riga del file 1 poi quella del file 2 poi la seconda riga dell'uno la seconda riga del 2 eccetera 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 ed ecco che questo comando appunto è potente avete visto come è versatile permette di come dire tra virgolette giocare mica male con dei file di testo che è un'opzione molto utile conoscere questo comando quando si ha a che fare ma erano degli elenchi anche più lunghi di questi di questi due file di prova che ho messo qua ecco con questo si ho finito con questa ultima versione forma del comando paste ho finito questo video numero 6 dei pillole di ubuntu con questo vi saluto e vi attendo alla prossima occasione ciao ciao ciao